Inizia il proprio iter evolutivo. Cerchio e seno attraverso NT. Raggio. Allorquando per un preciso atto di volontà primigenio una emanazione si individualizza, essa si vivifica. È qui che una entità spirituale inizia il proprio iter evolutivo. Non meglio è rappresentabile in termini umani uno tra i più mirabili ed impenetrabili misteri che tuttavia rendono operose le eterne ed immutabili leggi universali, indizio concreto dell'infinita onnipotenza dell'assoluto. Ricordate, l'entità spirituale che così inizia il cammino lento e inesorabile verso la perfezione massima ha potenzialmente in sé già tutta la perfezione assoluta per essere emanazione dell'assoluto stesso. Proiettata ineluttabilmente verso la perfezione attraverso l'inarrestabile processo evolutivo, essa entità sentirà la spinta di successivi atti di volontà sempre più coscienti. Evoluzione è un processo inarrestabile ed ineluttabile in cui agisce all'infinito ed eternamente la volontà predominante di rientrare nel tutto che ha emanato quella individualità. Con una similitudine possiamo dire che il processo evolutivo di una individualità spirituale è paragonabile ad un seme che per avere potenzialmente in sé ogni risorsa naturale a diventare albero inevitabilmente è proiettato verso quei ben determinati processi che lo porteranno ad estrinsecare tutte le successive fasi di espansione fino a diventare definitivamente albero. Lo spirito ha infatti nella sua potenzialità tutte le risorse originali che la divinità nell'emanarlo ha infuso in lui quale parte di sé stesso quindi coscienza ed intelletto. Attraverso questa risorsa sempre più efficace con l'evolvere della forma nelle successive incarnazioni lo spirito sviluppa la propria conoscenza intuitiva prendendo coscienza sempre più profonda ed elaborando attraverso l'intelletto la finalità del proprio essere. E' così che la conoscenza cioè l'evoluzione si concretizza nel processo binario duplice sul piano della conoscenza vera e propria e della morale. E' per queste ragioni che il presupposto dell'evoluzione deve necessariamente essere nell'evoluzione preliminare della forma cioè nella materia che è il primo freno ad intralciare nelle forme inferiori il processo evolutivo della coscienza e dell'intelletto. Lungo l'arco del processo evolutivo l'entità non necessariamente deve percorrere tutti i gradini intermedi. si può benissimo avanzare sospinti da quella molla che imprime l'impulso iniziale da atti di volontà costanti e successivi dalla tensione interiore dell'impegno assiduo. E quando l'atto volitivo si traduce nella convinta accettazione e quindi nell'acquisizione al patrimonio spirituale di una più elevata conoscenza di grado superiore cioè di un sentire di ordine maggiore allora proprio l'ascesa di un altro gradino sarà compiuta. Se poi tale gradino occupa un livello ad esempio 3 rispetto al livello 1 di provenienza vorrà dire che quell'atto volitivo felicemente concluso era tale da determinare l'ascesa diretta travalicando lo scalino di livello 2 non più necessariamente percorribile.